non ha mostrato alcun segno di pentimento. Andrea Asciano, il ragazzo di San Vito dei Normanni che ha ucciso a coltellate la madre, è rimasto mutuo e impassibile davanti al giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il GIP Valerio Fracassi ha deciso che deve rimanere in carcere negandogli anche il ricovero in una struttura psichiatrica in quanto, ha osservato il magistrato, non esiste alcuna certificazione di possibili disturbi mentali e in più, secondo il GIP, il ragazzo resta un soggetto estremamente pericoloso che non può stare che in carcere. Ma la situazione giudiziaria del 23enne di San Vito dei Normanni sembra ulteriormente aggravarsi. Rispetto a quanto emerso nelle ore successive al delitto, Andrea potrebbe avere accoltellato una prima volta Rosetta Cavaliere mentre la donna dormiva, come accadeva spesso, sulla poltrona della cucina. Dopodiché, mentre lei chiedeva disperatamente pietà, avrebbe infierito con altre cinque coltellate al torace e alla schiena prima di lasciarla esanime sul pavimento. Questa ricostruzione, che sarebbe compatibile con i risultati dell'autopsia e che è stata resa pubblica con un post su Facebook dal compagno della vittima, sarà vagliata dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che svolgono le indagini dopo aver arrestato il ragazzo mentre tentava di fuggire in pigiama. Se dovesse essere confermata la premeditazione e dunque fosse escluso il delitto di impeto, circostanza questa apparentemente supportata dal coltello a serramanico del quale si era armato il ragazzo prima di aggredire la madre, Andrea Sciano rischierebbe l'ergastolo. Quanto al movente, pare che il ragazzo attribuisse alla madre la responsabilità della separazione dal padre e la scelta di rifarsi una vita. Per questo, a rendere ulteriormente inquietante la vicenda, è il giorno del delitto, quello della festa del papà.